La Giridi è una forma anche di educazione oltre ad essere uno sport e oltre a questo migliora la relazione tra cane e proprietario e finalmente con la Giridi il proprietario per riuscire a ottenere dei risultati, degli obiettivi deve passare molto tempo con il suo cane e questa è già una grossa vittoria. E poi ci sono anche tanti motivi dallo sport, fa bene a noi, fa bene al nostro cane, tutto ciò si sta bene in compagnia. È uno sport che possono praticare tutti quanti i cani, io lo chiamo lo sport più democratico che ci sia, perché possono partecipare tutti quanti i cani, anche i cani non di razza e soprattutto tutte le misure dei cani, dai cani piccoli, small, medium e così via, sono quattro categorie. Ogni razza trova la sua collocazione e quindi anche per questo, poi abbiamo dai bambini alle persone di una certa età, tutto questo non favorisce che il rapporto, la relazione tra cane e conduttore e in questo caso il proprietario, perché la maggior parte dei praticanti di Giridi sono i proprietari dei cani.